Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma queste scelte sono scelte che alla fine credo sia sotto gli occhi di tutti che hanno pagato. Hanno pagato e grazie alla coerenza dimostrata nel corso di questi anni credo che gli elettori si siano accorti di tutti questi passaggi e ci abbiano premiato anche alle ultime elezioni regionali che finalmente hanno anche messo al centro della politica regionale Fratelli d'Italia mentre nelle scorse elezioni regionali noi eravamo ancora attestati su percentuali più basse. Sì, nella giunta Cirio la Lega era nettamente più presente anche in consiglio regionale ovviamente. Esatto. La giunta regionale esprime degli assessori forse ancora meglio della giunta precedente perché si viene da un'esperienza politica di cinque anni, si viene da un cammino percorso insieme, insieme al presidente Cirio riconfermato. E quindi una giunta regionale che arriva dopo una riconferma di un mandato di cinque anni ha anche modo di attuare dei correttivi, dei meccanismi interni di aggiustamento che consentono credo un'operatività migliore. Noi abbiamo avuto un'ottima affermazione elettorale, esprimiamo la vicepresidente Chiorino e su Torino il dato eclatante è stato credo quello dell'assessore uscente Marrone che si è attestato che il dottorino è provvigio sulle 12.000 preferenze. Quindi credo sia stato un ottimo risultato. Comunque Fratelli d'Italia poi anche appunto, beh, poi c'è comunque la sanità, l'agricoltura, insomma diciamo che sono anche gli assessorati e non c'è niente di nascosto, sono gli assessorati che hanno anche una forse maggiore capacità di spesa perché tra sanità e agricoltura sappiamo che tra tutti e due, insomma, magari tra fondi propri, fondi che arrivano dallo Stato, fondi che arrivano dall'Unione Europea, sono sicuramente tanti. Ecco, le chiedo però, casa, lavoro, sicurezza, sono alcuni dei temi che Fratelli d'Italia porta avanti da tempo, da sempre possiamo dire, no? E quali sono allora le declinazioni nella politica regionale? Ma le chiedo anche a livello cittadino che cosa sarebbe da fare? In città, in comune non siete in maggioranza, che cosa invece chiedereste? Sono temi molto ampi, mi rendo conto, ma io metterei prima di tutto il tema della legalità. Il tema della legalità, secondo me, è fondamentale perché nel corso degli ultimi anni la sinistra politica e non ha, diciamo, contrabbandato il concetto che l'illegalità può essere a tratti una forma di giustizia compensativa in forma artigianale. Questo è un concetto molto pericoloso perché nel momento in cui non c'è rispetto della legge, i primi a farne le spese sono i cittadini più deboli. Quindi i più poveri, i più anziani, le categorie più fragili. Questo si riverbera in una serie di decisioni, adesso noi sono anni che parliamo della microcriminalità, le barriere di Milano, Aurora, le occupazioni abusive di case popolari, eccetera, eccetera. Secondo me è fondamentale che il comune di Torino, lo Stato, si facciano carico di essere più presenti. Ora, noi notiamo uno sforzo a livello nazionale, l'abbiamo visto con il piano Caivano e con l'idia della sicurezza, però la presenza della legalità è un fattore fondamentale perché nel momento in cui i cittadini percepiscono insicurezza, in questo caso è un'insicurezza reale, non solo percepita. E si vede, si constata la prevalenza del più forte e cade il primo diritto sociale che è quello alla sicurezza personale, propria, della propria persona, dei propri beni, della propria abitazione. Però il comune che cosa vuole fare, come studi provano del comune, appunto che competenze può avere in questo? Beh, il comune ha, la competenza della polizia municipale innanzitutto, il comune ha dato un segnale, credo anche molto importante, con l'attribuzione delle deleghe all'assessore Porcedda, che è certamente una persona sensibile a questo tipo di argomenti, tuttavia sconta un'alleanza politica con forze che certamente non hanno questo imprinting culturale. Le chiedo appunto, noi abbiamo titolato anche il Consiglio regionale, lei è coordinatore di Torino, però insomma sappiamo che soprattutto a Torino la politica cittadina comunque si inserisce in quella regionale, comunque a Torino c'è una grande, diciamo che fa da peso importante, anche se bisogna ricordare tutte le altre province, ha citato diversi strumenti, c'è il Fondo regionale per gli anziani soli, c'è il Servizio civile regionale che è mutato, lo diciamo prima della pubblicità, ci sono degli investimenti per gli anziani, e secondo lei c'è un buon lavoro anche dal punto di vista appunto dell'attenzione al sociale, perché naturalmente se uno mette solo sicurezza ma non c'è l'aspetto sociale, resta un po' vuota, no? Assolutamente, certamente, certamente. Infatti gli altri temi di cui normalmente parliamo sono la casa, il lavoro e certamente le politiche sociali. E' chiaro che a Torino tutto questo è ancora più importante, perché noi viviamo in una città che non dobbiamo dimenticare, ha visto il lavoro evaporare sostanzialmente nel silenzio di tutti quanti, cui noi certamente abbiamo fatto eccezione, noi e pochi altri, però non c'è stata certamente l'attenzione che forse il tema avrebbe meritato. C'è il tema del lavoro, lei dice, le pre-stellanti, le crisi, certo, no, no, come no, è un tema, e qua ritorniamo alla Valenza indubbiamente sovracittadina, anche se naturalmente il tema è Torino, però quanto abbia un peso su tutta la regione. Ed è chiaro che in contesti di crisi di questo tipo le politiche sociali sono di fondamentale importanza. E secondo lei la città e la regione si stanno muovendo in modo differente? C'è un effettivo sostegno a questo problema, a questa crisi occupazionale? Ma allora, diciamo che la politica in questo senso può fare limitatamente, perché non può chiaramente creare posti di lavoro, può creare le condizioni affinché gli imprenditori possano esercitare le loro capacità e quindi fare impresa e creare posti di lavoro. Anche forse farsi rispettare, no, dal mondo, cioè quando ci sono delle situazioni in cui forse c'è una scarsa gratitudine nei confronti della città o della regione. Ah, come minimo, sì, sì, certamente, certamente. Quindi alcune prese di posizione anche piuttosto forti, lei le ha trovate? Beh, diciamo che forse nei momenti chiave, quando sono state prese delle decisioni che si sono rivelate fondamentali, non sono state prese delle posizioni inequivocabili, ecco, sul tema. Quindi si può fare di più. Ma sicuramente. Un altro tema, appunto quello che dicevo, c'è il Fondo regionale per gli anziani soli, che era un tema uscito con l'assessore Marrone. Sì, queste sono notizie recenti, sì, esatto. L'assessorato al welfare, il presidente Cirio, hanno studiato e rinforzato delle misure già esistenti. Uno è il Fondo Invecchiamento Attivo, che passa da, diciamo, lo stanziamento di un milione cento a un milione sei, ed è un fondo che finanzia progetti di associazioni e comuni, volti proprio a contrastare l'invecchiamento passivo, se lo vogliamo definire così. Quindi si stimolano tutta una serie di attività che vanno dallo screening delle malattie alla ginnastica dolce, a corsi per utilizzare lo smartphone, c'è un po' di tutto in questo ambito, che coinvolgano gli anziani in modo attivo per posticipare il più possibile poi quelle situazioni che poi declinano inevitabilmente nei recovery, nell'RSA, eccetera. No, anche perché è fondamentale, diciamo, sempre anche a questo tavolo con i suoi colleghi del suo partito o di altri partiti, il tema della disabilità, soprattutto la disabilità di tipo psicologico, insomma comunque mentale, più corretto dire mentale, il tema degli anziani è sempre abbastanza dimenticato. Ogni tanto ho citato qualcosa in campagna elettorale, poi c'è probabilmente... È verissimo. Invece gli anziani sappiamo che siamo una popolazione che sta invecchiando e che anche, insomma, credo che se siamo persone che hanno lavorato tutta una vita hanno tutti il diritto di vivere il meglio possibile. Certo, ma meritano come minimo il nostro rispetto, voglio dire, la nostra attenzione, visto che fra l'altro sono anche una forma di welfare per i più giovani. Certo, certo. Non dobbiamo dimenticare neanche questo. Quindi spesso vengono chiamati in causa. Ultima cosa, siamo in chiusura, ma il servizio civile regionale è modificato? Sì, questa è una notizia di ieri. Diciamo, sono state modificate alcune linee guida sul bando del servizio civile regionale, conferendo maggiore attenzione per l'appunto alle periferie e alle situazioni di degrado. Quindi i giovani che presteranno servizio civile verranno coinvolti in progetti pensati in modo particolare per le periferie e per il contrasto delle situazioni di degrado. Quindi insomma in periferia sappiamo che per Torino, anche questo è uno di quei temi che esce spesso in campagna elettorale, poi il tema diventa un po' meno rilevante. Per noi è assolutamente centrale. Ok, quindi, bene. Grazie per ora, adesso sono veramente tanti i temi, adesso abbiamo fatto appunto una sorta di infarinatura, però l'aspettiamo di nuovo per sapere un po' la posizione dei Fratelli d'Italia, anche sui vari temi cittadini, soprattutto quello del lavoro che appunto abbiamo accennato, ma meriterebbe tutto un approfondimento a parte. Grazie a Maurizio Pedrini, coordinatore per Torino di Fratelli d'Italia, e grazie a voi per averci seguito. Buon proseguimento con GRP.